Ragazzi, Saverio, da quando ha fatto la sua passione per il metal detector, adesso vive qui in spiaggia e sembra a contatto, diciamo, col suo elemento, che è quello della sabbia, che è quello della terra e niente, andiamo a trovarlo, chissà dove starà, abbiamo portato il pinpointer Saverio! Ragazzi, andiamo a cercare dentro, io so che lui di solito dorme qui Saverio? Strano, sarà ancora a dormire? Lo so, ragazzi, sarà ancora a dormire Saverio? Proviamo a svegliarlo, Saverio? Saverio? Ma dov'è Saverio? Andiamo a svegliarlo Saverio, buongiorno, sono arrivato, ho portato la colazione Fammi dormire, fammi dormire Ragazzi, non si sveglia, ma so io come svegliarlo, Saverio Ma chi è che sta cercando? Ah, hai sentito il richiamo, Saverio, ti sei svegliato Eccolo! Hai portato la colazione, mi hai portato il babà L'ho portata la colazione, Saverio, l'ho portata Ma lei dorme sempre così, con il metal detector in mano Sempre Sveglia Dolcetti, ragazzi, una Sucker Torte per me è un babà per il nostro Saverio. Saverio, per lei il solito babà alla crema con ciliegina. A lei, Saverio, come piace a lei. Gli ho fatto aggiungere un po' di rum, so che lei gradisce. Zagappa rum? Certo, certo. Perfetto, perfetto. Ho fatto bene? Per me invece, ragazzi, una classica, una Sucker Torte. Ho voluto omaggiare questo dolce, diciamo siamo più o meno di 200 anni, se non sbaglio. E niente, andiamo all'assaggio, ragazzi. Pasticceria di fiducia che già conosciamo. Procediamo all'assaggio. Buono, buono. Com'è il suo babà, Saverio? Amabile. Sucker Torte, ragazzi, classica, con marmellata di arance. Niente da obiettare. Prego, Saverio, prego. Ah, questo odore di mandarino. Credo sia arancia, Saverio, credo sia arancia. In effetti, anche l'odore, come si dice in gergo, è spizzicoso. Spizzica, spizzica. Spizzica, eh già, spizzica. Andiamo all'altro assaggio. Ragazzi, siamo pronti. Saverio è carico, si parte per questa nuova giornata alla ricerca del tesoro. Andiamo. Appena arriva di spiaggia, già inizia a piovere. Proprio i poteri forti ci vogliono fermare, ma noi il tesoro lo troviamo lo stesso. Mi passi il pinpointer, senti va. Oh, subitissimo proprio, centesimo inarenito proprio questo. Incredibile. Epoche passate riaffiorano a... Un centesimo, Saverio. Bello uno, bello uno. Di epoca britannica. Mi sento proprio a mio agio, in spiaggia con le scarpe della Lidl. Qui suona. Vediamo, vediamo cosa c'è. Un pezzo di carta stagnolita, immondizia, che andremo a raccogliere per avere un'estate più pulita per i vostri piedi. Mi raccomando, raccogliete sempre l'immondizia, almeno diamo una pulita alla spiaggia. Dai ragazzi, forza Metal Detector. Ragazzi, abbiamo appena iniziato, ma anche la pioggia è iniziata con noi. Speriamo bene, noi continuiamo, ma il cielo è abbastanza... Indersiato. Saverio, aspettiamo che passi la pioggia. Non può piovere per sempre, Saverio. Assolutamente. Ehi, sarà... Sarà mica quello che penso io. Sì, ci sono sicuramente tubature o robe simili a tubi. Probabilmente nei pressi di questi chalet troverete delle tubature, ragazzi, quindi suonera sempre. Saverio, lei non molla mai, anche sotto la pioggia. Purtroppo non possiamo zoomare con la GoPro, però... Ti sentiamo, Saverio? Sembra che qui ci sia un bel 2 euro. Sì? Ah, peccato. Una moneta tutta arrugginita, ragazzi. Non so se riuscite a vederla. Ci faccia vedere, Saverio. Ce la porti qui sotto, dove non piove. Che moneta è, Saverio? Sembra un gettone per la doccia. Sembrerebbe. Continuiamo a cercare, che stiamo trovando più monete qui che a Miami Beach. Ragazzi, niente, sta piovendo, quindi aspettiamo un attimo che finisca di piovere. Il nostro Saverio, intanto, non so se si vede, sta operando, perché lui, ragazzi, non si ferma mai. E niente, attendiamo qui. Queste qui dovrebbero essere caramelle al gusto di uva. Completamente buone. Edibili al 100%. Direttamente dal Giappone, le nostre merendine classiche. Caramelle dal Giappone. Ce l'ha portata il nostro amico Saverio Barra, grande metatelorista, detto anche il goat. Caramelle alla ciliegia, che ci ho abbinato questa bevanda a gusto mango col chupa chups. Adesso andremo all'assaggio. Senza zuccheri aggiunti, sono proprio una delizia. Non vedo l'ora di mangiarmi le palline del dragone. Andiamo all'apertura, Saverio. Oddio, sembra dell'uva passa, Saverio. Sì, ma è troppo strano, è assurdo, pazzesco. Ah, guardate, sono a consistenza tipo morbida, gelatinosa. Andiamo all'assaggio. Sono un po' spaventato. Proviamo. Ah, è gelatinosa. Tipo... Tipo fruitella. Ma quindi, diciamo, Saverio, è così che trascorri le tue giornate. Sì. Saverio, direi che è ora di partire. Che dice? Abbiamo, ragazzi, problemi di segnale dovuti alla sabbia umida. Saverio, come possiamo fare? Adesso che ci siamo spostati sulla sabbia asciutta abbiamo risolto gran parte del problema. Facciamo che se trovo due euro faccio un tuffo al mare. Va bene, Saverio. Scommessa accettata. Se Saverio trova due... Mi sa che l'abbiamo trovato. Se Saverio trova due euro, ragazzi, si farà un tuffo al mare con ben 16 gradi. Assurdo. Un padre Pio d'oro, forse? Speriamo in una collana. Che cos'è? Ah, un fior... Cos'è, Saverio? Un fiore di metallo, una fiore sabbica. Il cosiddetto fiore di metallo. Fiorena. Il tavolino promette sempre bene come area di ricerca. Vediamo se ci ritrova. La storia ce lo insegna. Segnale? Mi pare che c'è un segnale qui. Un bel segnale. Un segnale... Oh, guarda che ramino. Ramino. Fresco, fresco, proprio. Fresco di zona. 5 centesimi di puro guadagno. E sentasse. Parole sante, Saverio. Parole sante. Si sta rivelando una miniera d'oro, questo tavolino. Anzi, un oasi. Ancora. Un altro segnale, Saverio. Ma la stanno accostando. Dov'è? Dov'è? Mi sa che devo riprendere il metal detector qua. Oh, no. Un 20 centesimi. 20 centesimi. Fantastico. Questo si vede che è della scorsa stagione. Antiquato. bello, 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 bello. La tasca si inizia a fare pesante. Moneta su moneta. Qua suona. Un altro 60. Vediamo che cosa potrà uscire mai. intanto qui c'è questa sigaretta, andiamola a raccogliere, anche se non è metallo. Altri 10 centesimi. 10 centesimi, ragazzi. Cari amici del metal detector. Monete a piovere. Grazie per il vostro supporto che è andato a nascondere le monetine per noi. Anzi, a nascondere, a perdere le monetine. C'è chi corre e c'è chi trova le sigarette per terra. Andiamola a buttare subito. O dalla pizza che c'è qui. Almeno dovremmo trovare 5-6 euro qua per terra. E niente, il perimetro qua è finito, ma fuori da questo perimetro trova troppo. Cari amici, qua abbiamo interrotto la ricerca che piove. Piove disperatamente. Andiamo alla conta. del trovato di oggi. Tra varie rarità e reperti archeologici del mare. Siamo arrivati a ben... Abbiamo fatto l'euro. 1,05 euro. 1,05 euro con due ore scarse. Ah, no. 2,51 euro, anche il centesimo. Il primo della giornata, tra l'altro. Il centesimino. Abbiamo approfittato della pioggia per andare a cambiare le nostre monete. Saverio, ma quante monete hai? Spero almeno di aver preso un cento euro di monetina. Ma scusami, Saverio, sono tutti di rame? Posso vedere un attimo? E qualche moneta d'oro. La follia. Con Saverio non ci si annoia mai. Sera. E ci siamo. Quando pensi che siano questi? Ragazzi, provate a indovinare quanti soldi ci sono dentro la busta. Secondo me pesa, a meno di due chili. Due chili. Let's go. Abbiamo gli occhiali. Siamo arrivati al centro commerciale con Saverio Barra. E adesso cambiamo tutte le monete. Speriamo in un mille euro di monete. Il conteggio è pari al 9%. 9,9%. Eh sì, sì, io lo sapevo che era il 9%. Tu lo sapevi che era il 9%. Sì, sì, te l'avevo detto. Perché oppure, aspetta un attimo, oppure si può mettere tutte le monetine all'interno della macchinetta. Scusa cara. La macchina ti dà contante? Cioè dopo il cambio? No, ti dà un fogliettino come fosse uno scontrino che puoi o pagare direttamente o farti ridare i soldi in cassa. Ok, allora o ci paghi alla cassa o ti ridai i soldi in cassa. Sì, oppure vai sempre in cassa e ti ridai i soldi. E le monetine qui alla macchina? Vabbè, quest'altra... Questo 1,2 centesimi non li prende, solo 5. Ok, no, niente, dai, per forza qui. Qui ti trattiene il 10%. Ok, 1,2 centesimi li prende? Sì. Perfetto, vabbè, grazie. Grazie. Vai, Saverio. E' pronto per la prova del 9. Io ti ho fatto bene. Vai, Saverio. Ma ti conviene per sta tutta? Ma fa forza. Oh, fatto di suoni. Ah, come fa questa cosa? Ah, va. Qua è inizia a contata, vedi? Siamo ancora a bassi. Inizia il contagio. Basti, bassi. Qua è inizia a contattata, ragazzi. Ah, deve andare qua. Quante monete troverà. Non aveva capito, non aveva la metodologia? Sì, sì, sì. Voi alzate qua e poi cadono l'oltre. Speriamo che abbattenti illuminate. Ma ce ne sono altre qui. Sì, sì. Nel frattempo la macchina continua a fondare. Non credo che siano tante, Saverio. Io pensavo mille euro, ma qua. A di nessuna però ce ne sono cento, più vantabetti da un centesimo. E quasi nulla, però. Oh, forse arriviamo a di più euro. No. No, speravo a qualcosa di più massiccio, saverai. Con 8 euro prendiamo 800 goli ad ora ed ero il king delle elementari. 9 euro, 10 euro, guarda che ci arriviamo. Eccoli, ecco l'inquadra, l'inquadra. Arrivati a 10, ragazzi. Il target è stato raggiunto. Forse gli 11 arrivano. Arriva, arriva. Uh, 11 euro, ragazzi, 11 euro. 12, se lo facciamo 12. Se lo facciamo 12, Saverio. Che ne pensa? 12? Sì, sì, sì. Dai, 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 dai. Non ce li metto io, le 10. Dai, dai. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo. Eccolo, eccolo. Aspetta, sento altri rumori? Sento qualcosa? Sto sentendo altri rumori? No, si è fermato. No, ragazzi. 11,97. E niente. Oh, aspetta. Aspetta, aspetta, è uscito qualcosa. Sono finti, secondo te? No, dici, in 10,97. Oh, li vedo un po' uscurati. Magari non... Vabbè, vabbè, tutti ci sono. Stanno ricadendo? Ricadono... Ah, 12, 12, 12. Siamo arrivati, siamo arrivati. Non li prende, non... Non li piacciono. Non li piacciono. Come mai, Saverio? Non sappiamo. 12, 12. Siamo arrivati, che saranno fatti. Procediamo? Grande... Grande attesa. Non si è stato messo, non andrà rapido. Abbiamo usato CoinStars. No. Tutto lo stampo. Quanto è? Eccolo, eccolo. 12 euro. 12 euro e 12. Sì, sì, sì. Ti andremo in... Ma... L'ho preso il 9%? Sì, sì, perché era 13,45 euro. Ah, era 13,45. 271 pezzi da un centesimo. Saverio, cosa ci comprerai con questi 12 euro? Potresti prendere un po' di questo pesce? Stavo pensando... Non so, tipo queste filette di aringhe affumicate con legno di faggio. Ne puoi prendere ben 4 con 12 euro. Saverio, ragazzi, è in grandissima forma. Sportivo, scattante. Olè. Ci siamo. Ti ringrazio, caro. Ciao. 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 Ragazzi, eccola la gazzosa Lurisia, la preferita del nostro Saverio Bar. Facciamo vedere il nostro tinotto, la nostra aranciata e la nostra gazzosa. Tu ti vuoi prendere la gazzosa? Prendiamo... Io preferisco l'aranciata, Saverio. No, prendiamo pure la gazzosa. Pure la gazzosa vuoi prendere? Andiamo. Andiamo, let's go. Saverio Bar, ragazzi, lo sa. Ricordatevi, iscrivetevi al canale. Allora, 20, pagare più 12, possiamo pagare più 12. Ciao, grazie, cari.